In questi primi dieci giorni d'aprile il Covid-19 sta allentando il suo morso sulle marche, soprattutto per il progressivo callo dei ricoveri che dà respiro alle strutture ospedaliere. Secondo il Servizio Sanitario Regionale sono infatti 880 i pazienti ricoverati oggi nelle marche. Basti ricordare che erano una cinquantina in più a inizio mese. Si allenta la morsa anche sulle terapie intensive, scese ora a 134 pazienti dopo tanti giorni sempre sopra quota 140. Stabile il dato dei contagi col tasso di positività al tampone al 17%, 452 i casi in regione, 96 quelli nella provincia di Peso Rubino, su 2.661 nuove diagnosi per un totale di 5.122 tamponi effettuati. Dai contagi ai vaccini il Governatore Acquaroli e l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini hanno fissato alcuni punti cardine durante la visita nelle marche del generale Figliuolo. L'obiettivo è salire da 9.000 a 15.000 vaccinazioni al giorno e di farlo nelle prossime settimane con AstraZeneca per le persone fra i 60 e gli 80 anni con Pfizer e Moderna per over 80 e fragili. A Pesaro la campagna vaccinale è aumentata nel polo per soggetti fragili di Muraglia e ora ha pure registrato il completamento delle vaccinazioni degli ospiti di Casa Roverella e Casa Aura di Santa Colomba. Qualche coda, qualche ingorgo e qualche polemica negli ultimi giorni invece all'ex Ristò, una problematica sottolineata dallo stesso sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ci sono pochi medici, è molto semplice, al di là di una oggettiva difficoltà perché è su AstraZeneca, perché ieri distribuivano in parte AstraZeneca e quindi c'è stata diffidenza generale in tutto il paese, non solo da noi per le vicende comunicative legate ad AstraZeneca, però ci sono pochi medici. Noi abbiamo allestito l'area del Ristò per 16 postazioni, ieri c'erano due medici, tre medici, stamattina mi risulta la stessa cosa e quindi è evidente che se in una struttura che funziona bene non ci metti i medici necessari, il personale necessario, i vaccini ne fai di meno e si crea la fila, è abbastanza semplice il meccanismo. Quindi credo che questo sia il motivo, ribadisco, noi possiamo trovare i posti più belli del mondo ma se poi non ci sono i vaccini o non ci sono i medici per farli, le file ogni tanto si creano. Quando ci sono stati i medici tutto è andato perfettamente, c'è stato un riscontro molto positivo da parte della cittadinanza. Ieri e mi pare anche oggi non c'è il personale sufficiente, ovviamente le persone si lamentano.